Ersato E andiamo a Los Santos Bene 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 Allora Andiamo 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 Elimina gli spacciatori Ma questi sono dei ballas Che bello che bello che bello Boom Io non è che posso fare granché perché sono solo un passeggero Ora cerco di sparare C'è uno poveraccio che scappa in bici Da un elicottero che spara missili C'è proprio squilibrata questa cosa Boom 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 Un casino in mane Oh nonostante questo Ha riuscito a scappare parecchio Mamma mia Comunque devo dire davvero 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 Molto bello Molto bello Sì mi piace questo DLC Non so a voi ma a me piace tanto Che auto è quella? Ma è fantastica No vabbè Appare veramente di essere tornati indietro nel tempo con quest'auto Questi ballas schifosi Fa molto 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 GTA San Andreas Poi vabbè ovviamente anche Il DLC del Los Santos Custom Benny Benny mi pare se chiami Non lo so Non vuole dire scemenze La mia memoria non è più quella di una volta Sono vecchio Entra dentro l'appartamento Facciamo irruzione Oh yes Facciamo irruzione Recupero crediti Atterriamo Speriamo di non morire Ecco questi atterragi Tipo Rimbalzare sui materassini Sono il top Top del top Allora Qui c'è gente Ci sono ballas Ballas Entriamo Entriamo No che bello Spondare le porte Ragazzi Che bello Caricamento Attenzione Ne usciremo vivi Oppure Crasheremo Ok ci siamo Subito un nemico davanti Si materializza Così Questi ballas Schifosi Ah mi viene in mente Una missione Di GTA San Andreas Quella in cui bisognava Ripulire il quartiere Andavi in giro con Ryder E dovevi entrare In un appartamento Con dall'altra parte Dall'altra parte Delle ferrovie In cui c'erano appunto Questi spacciatori Tutturavano tutti sballati Quelli Ti menavano con le mazze Non avevano le armi Da fuoco Però Fico Fico Borsone Portiamo il borsone Ragazzi Come vedete qui General Mind Il solito Ciro Dread Qui si va a comandare Saliamo Saliamo Eccoci qua Si riparte Missione facile facile Del resto queste sono le missioni preliminari Fra l'altro Nelle missioni preliminari Tutti gli altri giocatori Possono derubarvi Quindi dovete fare molta attenzione Quando le fate Perché se vi fregano il borsone Siete spacciati Oddio qui stiamo cadendo General Mind suicida proprio Si è buttato Per fortuna invece Non siamo caduti Però effettivamente Sembrava che stessimo cadendo E niente Quindi prima missione preliminare Completata Non mi sembrava il caso Di fare un video Per ogni missione preliminare Perché se no Insomma sono molto banali Come missioni Però sono belle da vedere Quindi ho fatto questo Accolpamento Molto trendy Sex dope RCV E qui ragazzi Ci sono le sommosse Popolazioni rivolta Oddio no Che è No no Però a me questi fanno arrabbiare Quelli che ti infastidiscono Mentre tu stai facendo una missione Mi fanno veramente arrabbiare Posso capire dopo Se ti vogliono rubare le cose Però prima no E quindi adesso mi vendico Muori Pezzente Muori Devi morire Uno E due Io sono troppo forte ragazzi Sono fortissimo Come junior E non ci posso credere Siamo riusciti a evacuare la zona Dopo queste prime difficoltà Questa guerriglia urbana E raggiungi il mercato messicano Ah bene bene Quei porci messicani Schifosi Ci hanno pure copiato la bandiera Gli italiani eh C'hanno solo l'aquilotto in mezzo Quindi sono pure mezzi laziali E non va bene per niente Scendiamo Questa diga Veramente l'avrò percorsa 3000 volte Visto che noi abbiamo qui Noi panzoni Si chiama così L'organizzazione Di Ciro Abbiamo la base operativa Lì vicino Ah Quindi ci sarà da fare Botte Gas Mi ricorda molto La conquista Della Somalia Da parte dell'Italia Durante Il ventennio fascista Eh si Bombe a gas Ecco Sui cittadini Bim Cioè Quanto è bello Causare danni No Oddio che scemo Che fail Causare danni All'acquietta pubblica No Incasinare tutto No botte Cazzotti proprio Sbam Sbam Sboom Bob Spencer E Terence Hill Levatevi Cioè pure la polizia Stiamo facendo il devasto Devasto totale Mi ricordo Un'altra cosa Vedi io sono molto nostalgico Parlo sempre di ricordi Mi viene da pensare A La missione Non la missione Il deathmatch personalizzato Botte da Galeotti Che andava un sacco di moda In GTA Online Qualche anno fa Adesso non lo so Se qualcuno di voi Ancora lo gioca Magari A me piaceva un sacco Era una delle mie attività preferite Insomma Botte 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 Ma dobbiamo menar Pure poliziotti Tanto sono già ricercati Aia Non ti permetti Come Io volevo fare la schivata Però Si è fermato poi questo A terra Oh Si rialza Attenzione Però noi tanto ce l'abbiamo Il nostro RCV Questo veicolo Che serve a disperdere la folla Come fanno nella realtà Le forze dell'ordine Che arrivano con gli idranti A sparare acqua Tre stelle Ai 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 Certo questo è Pachiderma Questo veicolo Pazzesco Pazzesco veramente Intanto si aprono sportelli Cadono pali Fosse di blocco Incredibile Messaggi ricevuti Da iscritti Cioè veramente il top Il top Del top Dai saliamo Certo Sparare l'acqua Non penso che Produca grandi effetti Stiamo seminando Gli sbirri Ce la stiamo facendo Direi decisamente Un po' addormentati Intanto ci seguono Altri iscritti Pazzesco Pazzesco Una missione facile facile Questa molto carina Una bella idea Mi ricordo una delle Ok è vero Sono noioso Parlo sempre di ricordi Oddio no 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 Ciro Mannaglia Mo spero che non siamo bloccati Spero che non siamo bloccati Alla fine ce l'abbiamo fatta Ragazzi Qualche giretto in più Ma siamo arrivati Speriamo non ci sia nessuno A ucciderci Ecco qua Un ultimo tuffetto in acqua Non ce lo risparmia nessuno Proprio Ragazzi voi dovete riempirmi Di segnalazioni Per fare nuovi easter eggs Sono sicuro che sono usciti Nuovi misteri No Cioè non necessariamente Ultimamente Ma basta di pochino L'abbia fatti sul mio canale Se sono stato assente per un po' Sono sicuro che qualcosa è uscito Bene Andiamo a prendere le Stromberg Questi sono veicoli importantissimi Sono quelli che possono andare Sott'acqua Qui c'è sempre la guerra Con i miei riflessi felini Riesco a salvarmi Da questa distruzione Del mio elicottero E niente Insomma oggi la gente Ci rompe le scato La base operativa Bisognerebbe prendere Dei seri provvedimenti Perché l'arte è una cosa seria Molto seria Che non si può prendere Sotto gamba Per cui Bisognerebbe assolutamente reagire Qui si passa attraverso i cavi Della corrente Come se niente fosse Giustamente Mamma mia Come vedete General Mind In difficoltà Quelli stanno sempre lì A camperare Perché hanno la loro base operativa Lì no E quindi Avendo la stessa base operativa Ci si fanno gli screzi Comunque è abbastanza vicino Il carro attrezzi Presumo Che trasporta la Stromberg Il camion E quindi andiamo 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 Rimettiamo un veicolo Ce ne sono quattro Da recuperare ragazzi Ok Allora eccoli Adesso io Vi prego Di fermarvi Questo veicolo è confiscato Per la Ersato production No no Oh No 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 Mi sa che devo cambiare strategia Perché Non è andata molto bene La mia faccia da Frankenstein Non ha Sortito alcun effetto Un inseguimento È durato abbastanza Perché Io purtroppo Ho anche poca vita E non ho snack Quindi Devo stare attentissimo Boom Certo un'auto che sposta un camion Non lo so Boom Ah Perfetto Perfetto Devo dire che non l'avevo calcolato Però l'avevo calcolato Capito È voluto Io l'ho mandato apposta Lì addosso a quel pilastro Mica per sbaglio Giù da qui Andiamo in giro Con il nostro amichetto morto Nel sedile a fianco Perché ci piace così Ci piace così Guardate che bella Questo veicolo va sott'acqua Lo useremo più avanti nel colpo Ok Guida A dir poco Eccezionale Volevo citare il pilota Della Toro Rosso Oddio Verstappen Che fa sempre gli incidenti È fortissimo Però fa sempre gli incidenti Ok Abbiamo portato anche un'altra Stromberg E dovremmo aver finito In pratica Ne manca solo un'altra Però ci pensano i nostri Amici Ecco qui Preliminare Completato Preliminare Non in ambito Suzzo Preliminare Preliminare Ok Allora Andiamo a prendere L'ECU Per i siluri Ciro è un po' più avanti di noi Ma Sta per morire Credo Morto già Andiamo Andiamo Io È il genero Dobbiamo quindi andare Su una piattaforma Immagino Comunque su una nave Ok Gli ha preso Ciro Ciro Missili Missili Ole Siamo troppo forti Mi piace affondare Elicotteri Taratittittitt General Mind Vola Svola tu Svola Tra l'altro Ma lo andiamo pure a riprendere Perché Siamo in elicottero E quindi noi dobbiamo fare il trasporto Signori Andiamola a prendere Ecco qui Molto molto fico Questa nave cargo Ok So Servizio di trasporto Atta Voila Oplala Di sicuro arriveranno tanti nemici Sicuro Sicuro e arrivo Ok Ok Let's go back Stora Di ECU Ok ci stanno distruggendo Il nostro elicottero E' a quanto in difficoltà Questo rumore Non promette niente di buono Oddio No 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 Si sta spegnendo raga Mamma mia Morti Eh morti 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 Che ci posso fare Facciamo un po' di scambio Questa è una situazione Per pochi Ok recuperiamo i borsoni Intanto qui continuano ad arrivare i nemici Ai 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 Ovviamente io ho attraversato l'autostrada Senza guardare Perché Niente Mi piace Sapete quel brivido Sulla spina dorsale Quando attraversi senza guardare Non sai se Sopravviverai o meno Facciamo fuoco Ti pareva che non mancavo Ti pareva Va bene Dai Prendiamo il borsone E andiamo Vamonos E vamonos Vamonos Chissà quando Tornerò Che mira Che mira da bomber Sapete La satoga E' vero che è una sostanza dopante Però in caso di abuso Porta gravi conseguenze Gravi ripercussioni Uh Effetti da Vinewood Non da Hollywood Da Vinewood E comunque ce l'abbiamo fatta Quindi abbiamo concluso Tutte le missioni preliminari Di GTA Online Atto 2 Il caso Bogdan E Spero che questo video vi sia piaciuto In tal caso lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto In descrizione dovreste trovare Tanti bel link Apriteli E niente ragazzi Vempiete di commenti Mi piaciate Condividete E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao